Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. C'è un tabù che fa parte della nostra cultura materialistica e che forse ne esprime a ben vedere la sua essenza materialistica. Non dimentichiamo che viviamo in un'epoca in cui Dio è morto. La frase di Nietzsche è una frase epocale, paradigmatica, che identifica realmente il fatto che non c'è più Dio, cioè che tutto quello che avviene meramente è qualcosa di materiale. Non riusciamo più a vedere dietro il materiale lo spirituale, le energie cosmiche, le energie animistiche, le energie psichiche, le energie magiche che facevano sì che la realtà avesse altre dimensioni, nuovi livelli, differenti possibilità di esplorazione, territori, altri che non erano limitati unicamente a quelli materiali e fisici. La scienza con il suo riduzionismo, e con questo non sto assolutamente facendo una critica al paradigma scientifico, anche se io credo pochissimo nel paradigma scientifico essendo uno spiritualista, ma certamente il problema non è quello di fare il tifo per l'uno o per l'altro, è quello di trovare una sintesi finalmente, questo è il messaggio che ci viene dalla nostra epoca, purtroppo però come nelle fasi più decadenti del paradigma religioso, magico-religioso, dove la Chiesa reagì a tutte le trasformazioni in atto con una chiusura ulteriore e con un irrigidimento dogmatico ulteriore e così nacque poi l'inquisizione. Allo stesso modo oggi viviamo esattamente lo stesso meccanismo per quanto riguarda però il paradigma scientifico. Certamente il fatto che viviamo in un'epoca unicamente materialistica ha fatto sì che la morte sia divenuta un tabù, forse il più importante tabù, non è neppure più nominabile per certi aspetti e certe degenerazioni, per esempio il numero assolutamente fuori dalla ragione di cause che vengono mosse a medici e altri operatori sanitari quando muore un parente molto anziano dimostrano quanto questo tabù sia effettivamente un tabù. Perché che cos'è un tabù essenzialmente? È qualcosa che non soltanto non vogliamo avere intorno, di cui non vogliamo parlare, è qualcosa che non vogliamo riconoscere ed è qualcosa che vogliamo rimuovere. Ecco che allora rifiutiamo la morte come parte naturale della vita. Non a caso la scienza, oltre ad aver obbliato la religione, ha obbliato anche la filosofia e la filosofia insieme alla religione è l'unica disciplina, l'unica materia che può dare conforto o anche accettazione, fornire strumenti di accettazione, di conoscenza della morte stessa, quindi non soltanto di conforto emotivo ma di acquisizione della consapevolezza della nostra mortalità intesa nel senso più naturale del termine, senza neppure dover scomodare qualche entità metafisica. Infatti la morfati, l'accettazione del proprio destino, era caratteristica della filosofia stoica e la famosa frase quando ci sono io non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sono io, perciò di cosa mi dovrei preoccupare, non proveniva certamente né da qualche scienziato né da qualche politico ma da una scuola filosofica. Ecco se vi è invece una cultura che ha come elemento centrale la morte è quella buddista, nello specifico quella buddista tibetana. Io ho avuto la fortuna tanti anni fa di fare un percorso specifico scrivendo un libro che riguardava proprio il testo più importante del buddismo tibetano sulla morte, ovvero il libro tibetano dei morti, e ho potuto fare così conoscenza con una serie di grandi maestre, di grandi intelligenze, di grandi sensibilità che toccavano e toccano il tema della morte come dovrebbe essere toccato, non come un tabù, né come un terrore, né come una paura, né come qualcosa che ci deve spaventarne, come lo spavento supremo e neppure soltanto come fase di passaggio, fase di trasformazione, nello specifico passaggio da una nascita a un'altra, quindi neppure soltanto come aspetto religioso, ma la morte come misura della vita, la morte come ciò che dà senso alla vita, ne dà il senso pieno, ne permette la comprensione essenziale. E proprio di questo tratta la motivazione di oggi, che è una vera e propria super motivazione, perché ci parla della vera saggezza che tutti noi possiamo conquistare, che ci permette di vivere la nostra migliore vita, ci permette di vivere la nostra migliore vita e non ha nessun costo se non quello della conoscenza, della comprensione. Nessuno ci può dare in questa prospettiva alcun tipo di conforto, ma non è il conforto che cerchiamo, cerchiamo quella serenità della mente che ci permette di vivere ogni istante nella sua irripetibile, preziosissima unicità. Uso le parole di un guru, posso definirlo così perché è un laico, se non erro, che segue da tanti anni il buddismo tibetano ed è Rob Nairn, che però proviene da Sudafrica. Pensate quanto è potente l'insegnamento del buddismo tibetano, perché a differenza delle grandi religioni non ha avuto dei momenti, delle fasi di evangelizzazione e quindi la scoperta, la capillarizzazione che è avvenuta attraverso la scoperta della cultura buddista tibetana si è verificata in maniera veramente carsica, cioè sotterranea e però questo dimostra quanto non siano queste verità dogmi che provengono dall'alto, imposti dall'alto, ma siano invece verità che vengono acquisite attraverso l'elaborazione e la conoscenza. Rob Nairn ha scritto soprattutto per quanto mi riguarda un libro che continua a farmi compagnia da tanti anni, si chiama Vivere, Sognare, Morire, il titolo è bellissimo come sentite e oltre naturalmente a unificare queste tre energie e dimensioni, ci racconta in tante belle pagine quelli che sono gli elementi essenziali appunto della conoscenza, dell'esperienza, del pensiero per meglio dire, della morte come misura della vita. Innanzitutto quello che vi voglio proporre attraverso la prima delle due letture, una conseguente all'altra, è il concetto centrale, uno dei concetti centrali per la cultura buddista e il buddismo tibetano, che è naturalmente la impermanenza, la percezione, la conoscenza del fatto che la realtà è impermanente. Ecco cosa dice allora Rob Nair, comprendere l'impermanenza significa comprendere la vita, perciò sapendo fin dall'inizio che niente può rimanere così com'è per sempre, ci rendiamo conto che con le persone che amiamo dobbiamo scambiarci quanto più amore e quante più cose buone possibile. E quando arriva il momento della dipartita potremmo dire, non è rimasto altro da fare, abbiamo amato quanto potevamo. Nei Jataka, le storie del Buddha, c'è una storia suggestiva che narra di una famiglia che viveva in India. C'erano un vecchio padre e una vecchia madre e un figlio adulto con moglie e un figlio. Si amavano molto, erano molto uniti e si prendevano cura l'uno dell'altro, tanto che la famiglia era un esempio di amore per tutto il villaggio. Un giorno, all'improvviso, il figlio morì e tutti gli abitanti del villaggio ne furono sconvolti. Pensavano, dobbiamo consolare la famiglia perché devono essere completamente distrutti. Erano così uniti e si volevano tanto di quel bene. Andarono quindi a trovarli. Quando arrivarono, videro che nessuno era in lacrime, ma che stavano vivendo la loro vita di sempre, come se niente fosse. Chiesero al padre, che cos'è accaduto? Credevamo che amassi moltissimo tuo figlio. Non è forse morto? Il padre rispose, sì, è morto. E loro, perché non piangi? Perché non sei triste? Stai qui come se niente fosse. Che cosa significa? Il padre replicò. Vedete, da sempre so che tutto cambia e niente dura eternamente. Perciò, quando ho avuto questo figlio, l'ho amato moltissimo e ho sempre saputo che sarebbe venuto un momento in cui ci saremmo dovuti separare. Poiché non sapevamo quando ciò sarebbe accaduto, per il tempo che siamo stati insieme, abbiamo cercato di darci a vicenda tutto quello che potevamo, il meglio che potevamo. Per questo siamo diventati il simbolo dell'amore. Ora è accaduto quello che sapevamo e quindi sono felice, perché durante la sua vita non ho fatto niente che lo abbia turbato. Ho fatto per lui tutto quello che potevo e lui ha fatto tutto il bene possibile. Prima non avevo un figlio e non ero infelice. Poi ho avuto un figlio e sono stato molto felice. Ora sono tornato al precedente stato in cui non avevo un figlio. I paesani posero le stesse domande a ogni membro della famiglia e ciascuno rispose allo stesso modo. Ed ecco allora il secondo insegnamento derivante da questo, molto chiaro, di Rob Nair. Dunque usate la vita finché ce l'avete. Se nella vita siamo completamente infelici, allora l'abbiamo completamente sprecata. Questa vita che passa è una grande occasione, ma non dura. Finché c'è vita dovremmo usarla in modo da trarne il massimo beneficio. Come fare? Prima di tutto non sprecandola, affogandola nell'infelicità. Se ne godiamo appena è poco di più che non sprecarla del tutto. Se poi vogliamo fare di più, facciamo qualcosa di positivo, qualcosa di utile, qualche azione positiva che porti risultati positivi, utili a noi e agli altri. Basta fare qualcosa di utile per noi stessi e per gli altri, per accumulare karma positivo, per la prossima vita. Cerchiamo di aprirci. Questa è la seconda soluzione. Ma se vogliamo fare ancora un po' di più, diciamo, bene, è proprio in questa vita che voglio arrivare alla radice di tutti i problemi. Per quanto buona possa essere la vita, i problemi sorgono per via di come è fatta la mente. Essa racchiude tutti gli ingredienti necessari a creare problemi. Di questa mente noi non possiamo liberarci. Questo è il modo in cui siamo fatti noi, non le cose. Non possiamo semplicemente liberarci di una causa pensando di avercela fatta una volta per tutte. È come scalare l'Himalaya. Raggiungiamo una vetta e pensiamo questa è la più alta, ma poi scopriamo che ce ne sono altre cinque più alte. Dunque non potremo mai liberarci delle fonti dei problemi, perché le fonti sono dentro di noi. Se vogliamo cambiare, dobbiamo scavare dentro e il modo migliore per farlo è dedicarvi tempo e sforzo. Allora avremo usato la vita in modo molto più utile, anzi pienamente utile. E nel farlo non è necessario essere infelici. Possiamo farlo in maniera gioiosa. Dunque questo significa comprendere come usare il bardo della vita. Si dice che se non facciamo qualcosa qui, ora, il riconoscimento nei bardo della morte non sarà possibile. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.